Guardate, questo è il modo in cui loro operano, perché non lo sapete che questi gas sono oltretutto illegali, sono illegalissimi, nocivissimi, fanno male alla Madonna, ma loro in perteri ti li usano perché se ne sbattono i coglioni, quello è il loro modo di trattare, il loro modo di dialogare, il loro modo di cercare un qualche tipo di confronto. Questo è la loro democrazia.